Quando c'è qualche problema, fin da quando siamo piccoli, nessuno ci insegna a prendere parte attiva alla risoluzione di questi problemi. L'educazione fin dalla tenere età è molto difficile, occorre che qualcuno sappia educare i bambini e dopo l'infanzia si va a scuola, si va alle elementari e lì c'è semplicemente un ascolto passivo di quelle che sono le lezioni, quindi stai sei ore, cinque ore le ore opportune a scuola dove passivamente ascolti qualcuno che parla e apprendi. Anche lo studio qualcosa di passivo perché apprendo qualcosa che è già stato scoperto dal libro, da qualcuno che ha scritto quel libro a seguito di scoperte precedenti. Ecco, il regno della passività è il regno della nostra società, dove i nostri genitori, chi ci ha educato, i nostri insegnanti non ci portano a prendere parte attiva alla vita. Ma la vita stessa, che è creazione, che è energia, necessita di una presa di posizione attiva nella nostra vita. Automaticamente, avendo avuto questa educazione di passività dove noi riceviamo dall'esterno semplicemente, cosa porta nella psicologia della persona? Che nel momento in cui arrivano i problemi, i problemi arrivano sempre nella vita, questa è la massa di gente della nostra società, della nostra civiltà occidentale non sa risolvere i problemi da sola e quindi questa mancanza di competenza nella risoluzione dei problemi porta alla passività. La passività tende sempre a far puntare il dito verso l'esterno. Quindi se c'è un problema è sempre colpa di qualcuno, se c'è un blocco verso qualcosa è sempre colpa di qualcuno, non è mai mia responsabilità. Questa mancanza di presa di posizione, questa mancanza di presa di autorità, di responsabilità della propria vita deriva da questo susseguirsi di mancate azioni durante la vita stessa. È come se la strada fosse spianata, è come se qualcuno dall'esterno ci debba dire dove andare, senza mai ascoltare la voce anteriore, senza mai ascoltare quello che la nostra anima di giorno in giorno attraverso le sensazioni e le intuizioni sussurra. Occorre iniziare a prendere parte attiva alla vita e smettere di essere passivi. Quando c'è un problema, e i problemi, ripeto, ci sono sempre, proprio perché su questo piano di realtà sulla Terra l'anima si incarna e viene a fare esperienza di determinate situazioni che lei stessa attraverso l'incarnazione ha scelto, prendere parte attiva a questa esperienza. Dirsi, ok, c'è un problema, magari apparentemente con il mio solito modo di vedere le cose è insormontabile, mi si ripresentano gli stessi problemi, però c'è sempre una soluzione. Cercare all'interno l'energia e non aspettare qualcuno che all'esterno risolva un qualcosa. Grazie.